Anche Husqvarna, come la sorella maggiore KTM, ha annunciato dei pacchetti di noleggio moto e servizi per i piloti che parteciperanno all'ISDE 2024, che si terrà a Silleda, in Spagna, dal 14 al 19 ottobre quest'anno. Anche Husqvarna offre il noleggio di moto 2025 a due tempi o quattro tempi, oltre al pacchetto di servizi tecnici, che sono i seguenti. Assistenza di emergenza ai punti di assistenza Servizio ricambi Il costo dei ricambi non è incluso Catering Pasti dopo ogni giornata di gara Un filtro aria nuovo ogni giorno di gara per ogni pilota Primo servizio moto dopo il setup pre-gara e tanto altro I prezzi sono identici, infatti il costo del pacchetto completo di noleggio moto e servizi è di 5.100 euro per le due tempi. Invece per le quattro tempi è di 5.500 euro Anche in casa Husqvarna è disponibile solo il pacchetto di servizi tecnici al costo di 1.700 euro E il pacchetto fotografico a 120 euro Per più informazioni vi ho lasciato il link in descrizione Ci vediamo in Galizia Grazie a tutti Grazie a tutti